La vostra voce non si sentirà bene. Devo cominciare? Allora, mi chiamo Silvano Origio, è di mestiere, insegno ecologia, bene da ordinario, presso l'Università di Palermo, alla Facoltà di Scienze. Ci dice un attimo il suo nome e il cognome per mettere sotto base. Pietro Larrocco. Perfetto. Lei tu, provo su. Quando dici tu partiamo? Perfetto. Sono Ignazio Spataro, presidente della cooperativa Ondalunga. Sono Ruggero Di Maggio, sono un regista di documentari. Io sono Maria Gianbruno, sono il presidente del Centro Commerciale Naturale Piazza Marina e dintorni. Allora, ingegnere Alberto Cambiano, nato a Licata, agrigento. Io sono Giulia Petrucci, porto lo stesso nome di mia nonna, che fu insieme a mio nonno Antonino, il fondatore dello stabilimento Petrucci. Quindi ho l'onore di portare lo stesso nome della fondatrice, che è diventato un personaggio abbastanza mitico qui in zona, tutti ricordano mia nonna. Allora, mi chiamo Salvo Enzerillo. Franco Monreale. Io sono Roberta Monreale. Sandro Tarantino. Andrea Daiello. Io sono Adriana Zahieva. Quando Giovanni San Carlo. Mi chiamo Agassino Flessi Giacomo. Io sono Marino Giuseppe. Sì, sì. Sono Valentina Maiolino. Però è difficile non sbagliare, sì. Lo stesso. Sì. Allora, io mi chiamo Hanna Elisabeth Eintroth-Kastensen. Arrivederci, buon, apposci. Grazie. 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 Grazie.